video primo tempo video primo tempo ragazzi il derby è stata una partita se come vi ho detto ma siamo tutti quasi tutti scarsi 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 quindi non ci possiamo lamentare una squadra che deve arrivare navigare a vista per il quarto posto terzo posto l'unico obiettivo stagionale che ci è rimasto vincere due termini fortunatamente abbiamo raggiunto l'anno prossimo non si tratta di scegliere tra spalletti cardi croati l'anno prossimo parla fa il serio l'anno prossimo bisogna fare concentrati bisogna fare piazza pulita di tutti perché siamo mediocri e neanche ho voglia e forza più di arrabbiarmi perché sono tutti davvero mediocri l'anno prossimo si riparte da andano scrina forse brozovic scrivetemi voi da chi vorrete ripartire vorreste ripartire l'anno prossimo e per il resto ragazzi voglio antonio conte tu chi vuoi invece serio serio come allenato due terzini come allenatore uno che tra le punizioni abbiamo avuto due punizioni dal limite ragazzi una l'abbiamo non devi dire porco dio abbiamo poi non bestemmiato che deve vincere deve fare non c'è uno che vogliamo dei pai vogliamo chi vuoi come allenatore antonio conte che fa un buccio di culo così il nostro capitano mettiamo in mano